Didattica digitale integrata, il contesto che è rappresentato dalla classe reale e dalla classe virtuale. Sono collegate da un flusso, da una comunicazione e da un'alternanza. Per quanto riguarda la classe reale, costituita da banchi e arredi, dalla presenza con distanziamento in presenza. Più strumenti unplugged, più strumenti digitali, più comunicazione sincrona. La classe virtuale è rappresentata dalle piattaforme e dalla didattica online, più le applicazioni, gli strumenti digitali, la comunicazione sincrona, web conferencing, e asincrona le piattaforme. Tutte e due le classi, sia quella reale che virtuale, sono legate da interazioni, collaborazione, community, trip and classroom, valutazione formativa. Noi possiamo pensare con la didattica digitale integrata di passare dalle difficoltà alle opportunità. Come? Sfruttando l'emergenza per sperimentare una didattica flessibile, mobile e digitale, migliorando la comunicazione, lo scambio in forme diversificate, apprendendo con i propri ritmi, avendo la disponibilità dei materiali nel cloud. Grazie a tutti.